Questa è la seconda parte di filo diretto degli ascoltatori che stiamo trascorrendo in compagnia del vice sindaco di Castel Goffredo, Davide Ploia. Tantissimi messaggi, c'è Stefano per esempio che dice vorrei sapere quando rifate le strisce perché non sono a posto. Partiranno anche queste con gli interventi stradali che sono previsti tra ottobre e novembre, quindi è una questione. Ne abbiamo messo a budget 50.000 euro per quanto riguarda le strisce e poi ci sono interventi, magari poi ne parliamo anche gli interventi stradali. Ci sono associazioni che funzionano grazie agli alpini, Elisa, salutiamo gli alpini ovviamente, vice sindaco, salve la nostra cittadina, è diventata davvero bella con voi, grazie da parte di Nico. Qua invece il T9 l'ha fatta diventare Polis, mi fa piacere Polis. Ci sono molti volontari, associazioni di persone in gamba, penso i commercianti eccetera e voi collaborate bravi anche, quindi reghiamo all'altra dell'associazione. Sacchi di immondizia in giro, non se ne può più, dice un ascoltatore. Altro messaggio, Giorgia, dice raccolta rifiuti dovete mettere i cassonetti dove ci sono i condomini perché così c'è molta confusione altrimenti evidentemente tutti i cassonetti e i bidoncini probabilmente dice. C'è anche un ployage, ci sono troppi cinesi dovete fare più controlli, questo non c'entra con i rifiuti però. Riprendo velocemente le due, quella sui rifiuti, quella dei cinesi. Per quanto riguarda i rifiuti io sono per il pugno duro, nel senso che quando si parla di educazione civica, per quanto riguarda poi il discorso della raccolta rifiuti, ci sono molte persone che si comportano in modo corretto, che fanno la raccolta differenziata e hanno capito anche la logica che c'è rispetto alla raccolta dei rifiuti differenziati. C'è qualcuno che fa ancora un po' il furbetto e questi devono essere sanzionati. Io penso che però sia un discorso anche di tutti i cittadini, quando si vede che c'è un cittadino che si comporta male deve essere ripreso da tutti, non è che solo gli amministratori hanno questo compito. Cioè deve entrare nell'idea, nella cultura delle persone che se uno butta un mozzicone e una sigaretta in terra non va bene, non va bene per una serie di motivi, come quando ci si trova con i sacchetti dell'immondizia all'interno di qualche fosso o in qualche area in un modo non corretto, va ripreso, va segnalato a chi di dovere. Allora se tutti cominciamo a fare queste cose probabilmente di furbini ci ne saranno di meno o non verranno chiamati furbini ma in un altro modo. Quindi io penso che bisogna investire su questi aspetti, ovviamente qualche multa salata serve ma tutti dobbiamo fare il nostro e gli amministratori dare il buon esempio. Certo, assolutamente. Poi per quanto riguarda invece i cinesi, penso che questa amministrazione si sia distinta per quanto riguarda poi il sindaco in prima persona, è stato artefice di una serie di iniziative anche con le forze dell'ordine e penso che se questa amministrazione si è distinta è proprio anche per ripristinare la legalità e quindi quando si parla di legalità di lavoratori e di cinesi, ma al di là dei cinesi comunque di tutte le persone che non si comportano in modo corretto, se loro sono qua e si comportano in maniera regolare e anche chi poi li utilizza perché poi non sono solo i cinesi ma sono anche quelli che poi utilizzano i cinesi e quindi utilizzano chi non si comporta in modo corretto. Va bene a sottolinearlo, noi abbiamo ricevuto in redazione proprio oggi per esempio un rapporto della Guardia di Finanza di Brescia, dei vari distaccamenti della provincia di Brescia sull'estate e si evince che non sono solo i cinesi che fanno determinato. Adesso a Castelgofredo c'è questo fenomeno però... Alla grande anche tanti altri proprio per cui... Quindi infatti è bene diciamo parlare di legalità a 360 gradi poi... Allora, ecco, poi c'era le strisce da rifare, qua c'è un messaggio che le associamo per Doni Ploia ma anche da noi mancano, sì perché è arrivata una richiesta... Da dove? A Ceresara, a Ceresara ieri, le linee di mezzeria, tra un po' ci sarà nebbia, ci sono degli automobilisti che stanno dicendo che tra un po' c'è nebbia ma anche le linee di mezzeria che sono quelle che ti... Allora, io posso anticipare una cosa ma che poi è stato su alcuni quotidiani emerso, parlando di Ceresara la provincia ha stanziato e quindi dovrebbero partire i lavori tra ottobre e entro la primavera dovrebbero concludere per quanto riguarda la strada provinciale tra Ceresara e Castelgofredo verranno fatte degli interventi di circa due chilometri per le asfaltature e quindi contestualmente verranno fatte anche la segnaletica anche quella orizzontale verrà sistemata ecco questo ovviamente cerchiamo di mediare sempre con la provincia Per quanto riguarda poi gli interventi stradali abbiamo, diciamo, partirà un piccolo lotto di interventi per quanto riguarda la frazione Berenzi e per un tratto di strada a Bocchere per alcuni avvallamenti che si sono creati e pericolosi e quindi diciamo un occhio anche alla periferia ci sarà per quanto riguarda la montazione delle strade oltre alla partenza imminente anche del lotto 2 di strada acqua fredda che è un lotto di 300.000 euro è un lotto che ci permetterà poi di fare la chiusura del traffico pesante davanti alle scuole è da un po' che ci si lavora il primo lotto è stato fatto l'anno scorso per quanto riguarda la ciclo pedonale in via Brescia e questo è il secondo lotto di intervento che coinvolgerà strada acqua fredda è un intervento un pochettino più complicato nel senso che verrà combinato un fosso quindi il primo intervento qui in autunno e poi si concluderà nella primavera in modo tale che ci sia un assestamento anche di lavori che vengono fatti in questa prima fase allora le leggo più messaggi ancora appunto dica al sindaco di rimettere i cestini questa è una polemica che era venuta la volta scorsa che era venuto il sindaco Posenato che aveva spiegato anche però del costo dei cestini appunto Villa mettete le telecamere grazie poi ancora altri messaggi con la Lombardia autonoma cambierà tutto ci sarà la ripresa vabbè arrivederci è ironico il messaggio dice arrivederci speriamo in lei dice Fiorenzo che salutiamo poi ancora Claudio dice più Poiano per tutti salutiamo anche Claudio salutiamo tutti allora gli amici del Poiano poi Feodo Castellano è minacciato dalle urla di qualche malpancista mancato sindaco da sempre andate avanti bravi ho letto il messaggio così com'era lo sport a Castelgofredo non è solo pattinaggio comunque sia salutiamo chi pratica il pattinaggio Davide vogliamo il rugby a Castelgofredo eh ma io su questo sono sensibile devo essere sincero perché ho il nipote che fa rugby quindi però mi sono avvicinato recentemente a vedere anche qualche partito poi abbiamo Calvisano qua vicino eh giusto abbiamo una società brava secondo me che è quella del rugby di Casal Moro Asola che comunque è una struttura importante quindi penso che è una cosa che si può valutare in prospettiva ecco non sarebbe un consiglio anche femminile io ho un'amica che fa Toscana che fa ed è una bella ragazza tra l'altro bene allora sono i miei genitori per cui non vi spaventate le belle ragazze non diventano uomini assolutamente non è se uno è brutta è restattare se uno è bello è restattare non va tutta ho visto che no quindi appunto quindi anche allora anche il il rugby appunto in futuro dunque volevo chiedere un attimino anche se possiamo parlare anche comunque a proposito di eventi sportivi del campo sintetico sì infatti quando c'è il radio ascoltatore che parlava non solo del pattinaggio beh diciamo che in questi anni sullo sport qualcosa è stato fatto ecco perché adesso abbiamo abbiamo ultimato i lavori adesso stanno non del tutto perché per quanto riguarda il campo insintetico sono terminati i lavori in questo in questo periodo in questi giorni dovrebbero ultimare per quanto riguarda la riqualificazione della pista d'atletica quindi pensiamo che l'inaugurazione diciamo della riqualificazione dell'impianto sportivo per i primi di novembre ecco per essere diciamo larghi però per quanto riguarda appunto il campo sintetico nelle prossime settimane io penso per i primi di ottobre ci sarà anche la possibilità dell'affitto campi attualmente sono già iniziati gli allenamenti e le partite per quanto riguarda il settore giovanile della Castellana Calcio però l'obiettivo dell'amministrazione era quello di avere anche una struttura flessibile per quanto riguarda il noleggio anche dei privati e quindi di tutti i cittadini che per qualsiasi motivo anche ludico un po' per la partitella diciamo così con gli amici ci fossero delle strutture adeguate e quindi tramite una convenzione che in questi giorni verrà ultimata con la polisportiva avremo la possibilità di affittare due campi a sette e quindi o il campo intero a undici se qualcuno lo ritiene più opportuno e quindi questo che sia una bella novità per Castelgofredo ecco quindi assolutamente che è sempre ricca poi di eventi sportivi anche sì il pattinaggio è uno di quelli che comunque si dà molto da fare diciamo che anche quello è diciamo a conduzione familiare devo dire che il pattinaggio in questi anni ha avuto uno sviluppo anche grazie ai familiari oltre ai tecnici preparati che abbiamo nella società i dirigenti ma i dirigenti spesso sono molti familiari però il pattinaggio spieghiamolo brevissimamente è un po' come la scherma per l'Italia cioè guardate che l'Italia ha vinto tutto col pattinaggio quindi è uno sport nel quale siamo eccellenti e approfittiamolo insomma giochiamo in zolli sì sì diciamo che anche a livello regionale la Castellana pattinaggio è sempre in prima fila come anche nelle classifiche e penso che sia anche un bello sport perché unisce quello che può essere l'aspetto diciamo della danza a quello che potrebbe essere anche un insomma ci sono è bello da vedere ecco anzi alcune associazioni non sportive hanno ne hanno approfittato per fare delle belle iniziative e io ricordo quest'estate una bellissima serata per i dieci anni di Pastorius che è un'associazione che fornisce diversi fa diversi corsi per quanto riguarda la musica e ha fatto proprio un bellissimo evento in collaborazione col pattinaggio e penso che questo mix ti porti bene vogliamo anche l'ok ma c'è l'ok non so che c'è ma lo vogliamo appunto ai vertici i neturbini scassano i contenitori dice Marco allora questa è una cosa che infastidisce un po' anche a me nel senso che è vero che i contenitori poi vengono dati gratuitamente da Mantua Ambiente però è vero anche che uno dovrebbe avere anche cura di quello che gli viene insomma un minimo di accortezza ma serve assolutamente siamo in chiusura abbiamo altri messaggi che deteniamo comunque ringraziamo moltissimo il vice sindaco di Castel Goffredo Davide Ploia grazie vi ringrazio alla prossima grazie avviso importante a tutti